Basta le discussioni infinite e campanilismi, è arrivato il momento di prendere una decisione perché il nuovo ospedale si farà. Avanti tutta per il sindaco di Pesaro Matteo Ricci che dopo due mesi di silenzio torna a parlare di sanità provinciale, un settore che per il primo cittadino in questi anni ha fatto passi indietro causando problemi e disagi per tutto il territorio e per risolverli ci sono tre cose da fare, riorganizzare le liste d'attesa, ridurre la mobilità passiva e fare investimenti per modernizzare il sistema ospedaliero. I paragoni tra Pesaro e Fano sono sbagliati ha detto Ricci e la pari dignità chiesta tanto dal sindaco Seri io la voglio con Ancona e l'Emilia Romagna dove molti marchigiani stanno andando a curarsi, non facciamo quindi una guerra fra poveri. Ieri la novità è che il presidente Seriscioli non solo ha detto che non si torni indietro ma ha detto che ci sono i soldi. Dopo fermo tocca a Pesaro, Pesaro, Fano, Marche Nord, la provincia di Pesurubino e noi dobbiamo essere coerenti rispetto a questo progetto. Ovviamente la posizione del Consiglio Comunale di Fano è legittima, è comprensibile, Massimo fra l'altro è un amico e un amministratore che io stimo molto, lo invito però lui e tutti gli altri amministratori a riprendere la discussione che avevamo avviato. La discussione che avevamo avviato deve tenere insieme l'ospedale pubblico del quale necessita il nostro territorio è un rapporto diverso con il privato convenzionato perché non è più possibile che la nostra provincia sia oggi tra le province peggiori in Italia in termini di mobilità passiva. Se non teniamo insieme queste cose una soluzione non si trova, abbiamo discusso fino a novembre per cinque mesi di due ipotesi, ripartiamo da quelle e sono convinto che tra qualche settimana si possa arrivare a una decisione. E queste ipotesi per Ricci sono le uniche realistiche da prendere in considerazione. Per il sito del nuovo ospedale la scelta che predilige è quella di Muraglia perché sarebbe meno costosa, a basso impatto ambientale e più veloce da realizzare visto che parte del presidio è già esistente. Un altro aspetto fondamentale è che la considera baricentrica per le tre vallate, facilmente raggiungibile sia dall'autostrada che dalla nazionale. Con questa opzione, secondo Ricci, Fano avrebbe la possibilità di far diventare Santa Croce un'eccellenza grazie a un privato convenzionato che investa nella struttura così come a Cotignola. Nel progetto poi rientra un eventuale contributo da parte della Regione per completare l'interquartieri fanese fino a Gimarra. La seconda opzione invece è quella di tornare al sito originario di Fosso Seiore. In questo caso, Muraglia, verrebbe messa a bando per un investimento privato convenzionato. In provincia comunque rimarranno gli ospedali di Urbino e Pergola così come le sedi di Fossombrone, Cagli e Sasso Corvaro. Invito a tutti ad aprire una discussione concreta su questo perché qualsiasi altra proposta è legittima ma sappiamo che non è realizzabile.